Superata la soglia dei 100.000 casi confermati di Covid-19 nella regione Puglia da inizio pandemia, è uno dei dati più significativi contenuti nell'ultimo bollettino epidemiologico regionale che ha riscontrato altre 1.499 positività a fronte di 10.880 tamponi effettuati. In particolare sono 494 in nuovi casi in provincia di Bari, 127 in quella di Brindisi, 161 nella BAT, 248 in provincia di Foggia, 181 in quella di Lecce, 272 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione, 5 residenti in provincia non nota. Continua ad allungarsi anche la scia dei decessi che ad oggi portano il conto a 2.648 da inizio pandemia, 27 i morti registrati nelle ultime 24 ore con 10 in provincia di Bari, 5 nella BAT, 2 in provincia di Brindisi, in quella di Foggia, in quella di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Balzo in avanti anche dei ricoveri con 26 in più rispetto a ieri ed un conto totale che arriva a 1.551 attualmente negli ospedali Covid della Puglia. Sono 175 i posti letto delle terapie intensive occupati con un incremento di 22 pazienti rispetto a ieri. Sono 659 invece i negativizzati e quindi torna a salire molto il numero degli attualmente positivi che arriva a 54.735.